Ciao amici di HappyTime, sono Carlo Maria Cardeleni, Bar Manager di Parallae di Siena e sono qui oggi per mostrarvi un twist su Margarita. Il twist ha appunto il nome di Carlos Margarita. Lo costruiamo come tequila blanco, chastrez e sciroppo di zucchero allo zafferano. Il drink viene servito in coppetta, shakerato, double strain. Andremo a shakerare poi tutto con del ghiaccio. Ahahahah! Ahahah! Ahahah!